Nico Rosa, proprietario di questo magnifico locale. Cosa è il MAMAS e cosa offre il MAMAS? Il MAMAS è un disco pub con musica live e anche dance. Il venerdì facciamo musica live per tutti i gusti, dal rock ai vari tributi. Facciamo anche molte scene spettacolo con musica anni 70-80. Abbiamo avuto già ospiti di rilievo come Umberto Smaila e Gerry Calan. Lei è regina di nome e di passo, perché è la regina degli anni 90, giusto? Raccontaci un po' della tua vita. Allora, innanzitutto io ogni giorno ringrazio con Dio perché faccio un lavoro che a me piace tantissimo. Sarebbe portare emozione le persone con la mia musica. Grazie al mio produttore che hanno creduto in me tanti anni fa e che continuano ancora a credere e io ancora vado avanti. Grazie al mio produttore che hanno creduto in me tanti anni fa e che continuano a credere e io ancora vado avanti.